Presidente Imbastaro, un altro grande appuntamento targato WISP per questi campionati di pattinaggio che si svolgeranno a Scanno? Sì, un ringraziamento allo WISP regionale che ha messo su questa competizione molto importante che vedrà migliaia di persone arrivare in Abruzzo per questa manifestazione che si terrà dal 2, mi sembra, al 18 luglio. Si prevedono 5.000 presenze, quindi un importante evento che farà conoscere la nostra terra. Penso sarà anche un momento di confronto sportivo negli ideali dello sport e di quello che la WISP vuole, cioè promuovere lo sport per tutte le fasce di età. Vogliamo spiegare cosa accadrà durante questa manifestazione, la logistica di questo evento targato WISP? Abbiamo curato tutta la parte della logistica, tutta la parte della ricettività dei nostri ospiti, saranno, speriamo, 15-20 giorni di attività sia agonistiche che turistiche molto importanti. È sicuramente un evento per noi da un punto di vista turistico molto importante. Pensare che sono 1.500 atleti, parliamo di circa 6.000-7.000 presenze nell'arco del periodo, significa anche un bel intervento economico per la nostra cittadina di Scanno. Questa regione mi pare si vada sempre più confermando come una regione dove i grandi eventi possono avere un riscontro molto importante, una capacità organizzativa apprezzata e poi anche mobilitare entusiasmo attorno al mondo dello sport che secondo me è sempre davvero molto utile. Io penso che come istituzioni siamo stati presenti, abbiamo rifatto una legge molto importante che regola e ha regolato il mondo dello sport, abbiamo messo in campo una serie di iniziative e di manifestazioni, abbiamo introdotto il mondo dello sport in modo significativo nelle scuole elementari. Quindi quando cresce il mondo dello sport, secondo me cresce una comunità poi alla fine.